Ciao ragazzi Ho visto un po' di video su Youtube Oggi è lunedì Buon inizio di settimana a tutti Inse mio vicino sembro un mostro Sto facendo un video col telefono E mi guardo Perché ho girato la fotocamera del cellulare Quindi mi posso guardare E sono un mostro Di Loch Ness Vabbè Stavo guardando tanti video su Youtube E ho detto perché non posso Fare un video anch'io col cellulare Finché ho la batteria carica Non sapevo se fare la live Non sapevo il telefono ovviamente E quindi non l'ho fatta Anche perché devo passare l'aspirapolvere Quindi Aspetto che siano le due Adesso è l'1 e 10 Dalle 9 che sono sveglia oggi E vedi Ho già pulito tutto La cucina è pulita Ho già preparato anche il sugo per la pasta Per stasera cena I capelli adesso mi lavo Se non oggi domani Io ho detto facciamo un video così Lo carico E via Vorrei anche fare Tanto in televisione non c'è niente Vorrei anche fare Scusate il video mosso Vorrei anche fare Dicevo Un video Tac In ASMR Che ho fatto anche nel canale Sere Channel Dimmi il tuo profumo Così Anche se adesso compro solo acque profumate E ho un'acqua profumata E un profumo Della Lidl Non ne ho altre di profumi Non compro adesso più cose costose Non ne ho mai comprate Ne hanno sempre Ne hanno sempre Molto spesso mi hanno regalato Profumi costosi Ma sto dicendo una cavolata Non è spesso Spesso non mi regalavano profumi costosi Sarà successo due volte Che mi hanno regalato Due profumi costosi E voglio parlarvene In un video Così Tac Se vi interessa fatemi sapere Come ha detto anche Mary Il mondo di Mary Ciao Crafty Mary Io voglio praticamente Io metto la faccia su Youtube Sia in questo canale Sere in ASMR Sia nell'altro canale Io ci metto la faccia Vi faccio vedere Quello che mi piace I video hall I acquisti che faccio Parlo Chiacchiero Vi mostro la mia vita La nostra vita Perché sono sposata Però Voglio un riscontro Voglio Vorrei dei commenti Vorrei che voi Vi faciate sapere Quello che pensate Se vi piacciono i miei video Se non vi piacciono E se vi piacciono Perché vi piacciono Perché non vi piacciono Cosa posso migliorare Se sbaglio Dove sbaglio E perché Sempre con le buone maniere Con la buona educazione Ma voglio Un confronto Un riscontro Con voi Che mi guardate Io vi metto Diciamo Tra virgolette In mostra Quindi voglio Che mi diciate Quello che Pensate Non so parlare Quello che pensate Ovviamente Senza insulti Senza offendere Perché io sono educata E quindi Voglio educazione E voglio rispetto Anche da voi Che mi guardate Mi sembra giusto Che dite? Adesso c'è un medico in famiglia In tv se vi interessa Ho questa maglia qua Di civici moda Con i cuoricini Che è un po' Scollata Ma non è scollata Rosa Ma ha perso un po' il colore Mi è diventata un po' grigia Vabbè Mi sto accarezzando i capelli Mi sto un po' pettinando Con le mani I capelli Perché sono un po' agitata È un periodo Un po' così Un po' Di tranquillità Un giorno Tristezza Un altro giorno Pensieri È un periodo Un po' stressante Basta Senza entrare in dettagli Voi spero che stiate bene Che mi sentiate bene Anche senza microfoni Io non sono per niente professionale Lo sapete Avrei un microfono Lo sapete Che l'ho già usato Anni fa L'anno scorso L'ho usato Però adesso Con la videocamera Prima avevo la fotocamera E non riuscivo A unire le due cose Microfono E fotocamera Adesso la fotocamera Si è rotta L'ho dovuta montare E quindi Non riesco più A sincronizzare La videocamera E il microfono Con il computer In più Adesso pure Il computer Si è messo a fare A darmi dei problemi Di nuovo Erano passati i problemi Adesso ci sono di nuovo Lo tengo sempre spento Ho caricato la batteria Ho svuotato la memoria Del computer Ma non funziona Non so perché Sempre ai movie Mi dà dei problemi Ai movie Perché ho Un computer Così Da vent'anni Che ho un computer Prima è regato mio padre A 18 anni Adesso sono 26 Quindi è vecchissimo Con il computer Però Mi piace Funzionava Funzionava fino alla settimana scorsa Adesso non funziona più Avrei anche dei montaggi Da fare Oltretutto E il computer di Dino Lo uso per caricare i video Perché il mio computer Anche se Costoso Purtroppo Purtroppo E quindi non posso caricare i video Dal mio computer Ma uso quello di Dino Di mio marito Per caricare i video Però poi non cambia niente Basta che li carico Però Ecco Un po' di chiacchiere a casa Voglio fare un po' di scratching Non so se sentite La corda dietro Mi piace questa ripresa 6 minuti Oggi c'è il sole Sono Ci sono state Mi sembra 3 o 4 settimane 4 magari no Però C'è il sole Ieri faceva freddo Perché faceva freddo Abbiamo fatto una passeggiata Perché c'era il sole Ma faceva freddo Perché siamo ancora d'inverno Lo sapete A me piace di più l'inverno Che l'estate L'estate Io soffro tanto Il caldo Le api Gli insetti Eccetera Eccetera Non è per lamentarmi Ma è la verità Sono ci sono i vicini Sopra col cane Che devono uscire E fanno un po' di rumore Fanno un po' di rumore E come state voi? Cosa vi posso dire D'altro Ieri appunto Vi dicevo Abbiamo fatto una passeggiata Io e mio marito Perché è la domenica Appunto Oggi è lunedì E faccio più Con le pulizie Tanto per cambiare Ho caricato E ho registrato Un sacco di video Quindi spero Che tutti quelli Che registro Tutti quelli Che carico Vi piacciono Struccata Sono orribile Poi da vicino Mi faccio paura Vabbè Vabbè Regliamo un po' Cosa vi posso dire D'altro Sta arrivando la primavera Siamo quasi a marzo Adesso è finito febbraio Siamo quasi a marzo Voi amate il caldo Da noi Asmr Ha fatto una bellissima live Prima E stasera Sul tardi Ne farà un'altra Dal cellulare Bravissima Marika Una delle tante youtuber Che seguo In asmr Che fanno video asmr E che mi piacciono tanto Sono molto brave Potrei elencarvele Tutte quelle che seguo A gemella petta Monica Arasule asmr Monica Spicciani live Monica Spicciani vlog Mi sembra anche Forse non live Ho sbagliato Carlotta le note del silenzio Alessia asmr channel Yuki channel Menka Menka Asmr Poi ce ne sono altre Vabbè Mirjana Asmr Mirjana Elisa Whisper Ha fatto un bellissimo video Dove mostrava le sue mani E non faceva movimenti delle mani Ma Con una piro Con una matita Toccava le mani Massaggiava Era bellissimo Brava E poi chi c'è? Coco Asmr Coco Coco Asmr Erika Red Asmr Virgi Virginia Asmr Tutte bravissime Tutte bravissime Tutte donne Quasi tutte Raffaele mi piaceva Anni fa Non so se adesso fa ancora video Raffaele Voice Asmr E poi c'è Dito Asmr Che si è fatto L'ultimo video Non asmr Dove si è fatto un piercing da solo Aveva paura ma ce l'hai fatta Bravo Fantastico 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 E poi ce n'è un altro Di ragazzo Che non mi ricordo Però il nickname Creative Blog Creative Asmr Ragazzo Dove fa tutti i trucchi Dove fa tutti Roleplay Di make up E non solo Adventure Qualcosa Mi sembra Non mi ricordo Il nickname Ce ne sono talmente tante Di persone che seguo Ve ne utente solo alcuni Danny Asmr Denise Abbiamo anche collaborato Fantastica Se avete un canale E volete collaborare con me Fatemi sapere Adesso dovrei Forse ad aprile Collaborare con Jessica Del canale Barry Asmr Fantastica Adesso però Sta studiando Quindi ci va un po' Poi c'è Ika Asmr Hilary Mi sembra Ciao Ika Ika Asmr Una ragazza Batita di Dragon Ball Fantastica E poi chi c'è Lulu Asmr Luana Mi sembra si chiami Fantastica Originale Ricicla tutti I parattoli Fa delle confezioni Fa delle decorazioni Bellissime Fantastica Anche lei Brava Vabbè Questo vlog Così Di parole Ve lo lascio così Spero che mi piaccia Che vi abbia tenuto un po' di compagnia Buon pranzo Se dovete mangiare Buon pomeriggio A presto A presto Statemi bene Spero che non abbiate l'influenza Spero che stiate tutti bene Che siate rilassati Spero di rilassare Anche se c'è qualcuno che mi dice Non sei per niente rilassante Peccato Mi dispiace Non posso piacere a tutti Vi faccio un po' di carezzine E vi saluto Ciao Ciao Vania Vania Manzari Mi chiede sempre Gli hand movements Ciao Debbie Cat Ciao Betta Ciao Luana Ciao Marina Miriana Elisa Marika Roberta Francesca Fra ASMR La mia amichetta Milena Fra Darkmoon 8883 Ciao a tutti Un bacione Tic 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 Tac 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 Fatemi sapere che video volete vedere in ASMR Roleplay Tag Chiacchiere così come adesso sto facendo Come sto facendo adesso Come ho fatto adesso Oppure Hand movements Li ho registrati Ho anche registrato il roleplay cura delle sopracciglia ho registrato e caricato il roleplay ristorante ho registrato e caricato due show and tell che adoro io adoro guardare i roleplay i video haul, i video tag i pieco vestiti ne ho registrati tanti ne ho caricati tanti ciao Rachele sia Rachele di Lucca sia Rachele Love ciao Rachele ciao a entrambe queste ragazze a presto